E' arrivato intorno a mezzanotte il critico Vittorio Sgarbi davanti ai cancelli della Foodinvest, ad attenderlo molti dipendenti dello stabilimento di Portodascoli, rimasti diverse ore in piedi pur di incontrarlo. Sgarbi, accompagnato dal sindaco Gaspari, ha ascoltato le necessità e le rimostranze dei lavoratori che gli hanno anche fatto vedere il cartellone con i turni di sit-in. A seguire, il critico ha partecipato ad un piccolo rinfresco organizzato per il suo arrivo, ma anche per il compleanno di una delle operaie, Assunta Stramacchia, che proprio ieri compiva gli anni. Quando c'è una situazione come questa, ha detto il critico, con famiglie in disagio, la politica non si deve dividere fra chi ha torto e chi ha ragione. Dopo uno scambio di battute con il primo cittadino, Sgarbi è ripartito alla volta del Teatro Concordia. Intanto i lavoratori della Foodinvest precisano in una nota come la cassa integrazione e la successiva mobilità siano l'anticamera della disoccupazione e il tanto decantato prestito a sostegno delle maestranze in realtà sia solo una parte di quello che l'azienda ha risparmiato grazie all'accordo sindacale. Da oggi si legge in una nota delle maestranze l'interesse primario dei lavoratori sarà monitorare il comportamento della famiglia Malavolta, che dal suo rifugio circondata dai suoi mercenari ha elaborato una strategia di temporeggiamento, scegliendo di negarsi agli incontri prefissati, agli accordi telefonici mai presi, di non fare neanche presentare il suo legale di punta a Villanacci e di delegare agli incontri obbligatori figure minori del suo organigramma, col mandato decisamente limitato. Questa strategia della famiglia Malavolta crediamo abbia questo obiettivo primario, scrivono le maestranze, il logoramento dell'unico vero imprenditore, cioè Pignoletti con il gruppo Green Garden, ma questa strategia, chiudono gli operai, è destinata al pallimento. Grazie. Grazie.